Il capigruppo di Forza Italia ed Eboli 3.0 firmano una nota congiunta in cui attaccano la gestione del palasele di Eboli, dopo l'ultima delibera di giunta in merito. La gestione del patrimonio comunale, recita la nota, continua a essere condotta senza alcun ritegno né interesse pubblico. Ad essere privilegiati ancora una volta sono gli interessi dei privati. Fino a pochi giorni fa il privato versava anticipatamente 5.000 euro per usufruire della struttura per il primo giorno e in caso di ulteriore utilizzo la somma scendeva a 1.000. Per fare un esempio, nella due giorni da sold out di Biagio Antonacci, tra incassi relativi ai ticket e sosta di autovetture, la società privata ha registrato il tutto, esaurito con un introito pari a 600.000 euro circa. L'ente invece ha incassato la misera cifra di 6.000 euro, vale a dire gli anche l'1%. Giovedì 11 gennaio 2018, la giunta dei dilettanti allo sbaraglio, si legge ancora nel comunicato firmato da Damiano Cardiello e Santo Venerando Fido, ha stabilito le tariffe fisse in 3.000 euro giornaliere pubblicate dopo lo svolgimento del concerto stesso. Siamo costretti a constatare senza alcun motivo di dubbio un favoritismo evidente nei confronti dei privati a scapito dell'interesse pubblico.